buongiorno siccome le condizioni del tempo oggi seppure lentamente parzialmente stanno migliorando dedichiamo un po di attenzione in più alle temperature questa questa carta presa sempre dal solito sito della marina americana è un po diversa da quella che vediamo di solito perché solitamente ci diciamo stabilizziamo così concentriamo la nostra attenzione sulla quota di 1500 metri perché è una quota un po di riferimento per vedere se arriva l'aria calda arriva l'aria fredda qui siccome l'aria fredda sta entrando in realtà abbiamo facciamo una cosa un po diversa questa carta ci dice che temperature ci sono a mille piedi perché si usano i piedi come altezza sono 300 metri se arriva lo zero la temperatura di zero a 300 metri capite che abbiamo possibilità di nevicate piuttosto in basso se si mantiene al di sopra sappiamo che sopra le quote collinari ci sarà nevicate ci saranno essere nevicate al di sotto no allora questa è prevista per la giornata di oggi la linea azzurra indica proprio i punti in cui a 300 metri ci sono zero gradi vedete che si trova tutta est quindi l'aria fredda è sull'europa orientale qui sull'italia abbiamo queste linee rosse che ci danno 5 gradi previsti a 300 metri sulle regioni del nord e del centro e 10 gradi addirittura al sud quindi in questa situazione di oggi capite che più di tanto non scendono vediamo domani se cambia qualcosa e qui vedete che più o meno siamo nella stessa situazione è vicina questa linea questa linea che porterebbe nevicata e piuttosto in basso è vicina però si mantiene al di fuori dell'italia e l'italia è più o meno compresa in una zona in cui a 300 metri ci sono 5 gradi di temperatura e che ci lascia ancora le famose nevicate che sono state previste a raffica dalla fine dell'anno scorso ancora direi al di fuori bene vediamo il tempo previsto per la giornata di oggi eccolo qui ancora il medio versante adriatico e buona parte del sud con precipitazioni quest'aria fredda che entra e soprattutto quella che entra da nord est e quindi trova le coste adriati che trova l'appennino e intensifica un poco le piogge soprattutto appunto essendo aria fredda in questa zona ci possono essere le nevicate più basse ma abbiamo visto a questo punto direi che insomma non dovrebbero arrivare a 300 metri fermarsi magari a 500 magari nella prossima nottata come sempre c'è anche l'andamento giorno notte per quello che riguarda la quota la quota della neve a parte questo maltempo ancora al sud ma in attenuazione soprattutto nella seconda parte della giornata di oggi per il resto al centro e al nord c'è qualche nuvola sicuramente ma non non precipitazioni che però attenzione interessano le zone alpine seppure sulla parte settentrionale quindi ci sono delle nuvole quindi siamo un po come dire presi in una specie di morsa non è che abbiamo ampi spazi però tutto sommato la situazione migliora e sta migliorando anche la situazione dei venti che ieri avevamo visto caratterizzata da venti di maestrale molto forti molto forti che riguardavano soprattutto questo questo canale che passa fra le isole maggiori e la Tunisia oggi abbiamo più o meno le stesse direzioni vedete nord est nord nord ovest in rotazione anti oraria non più il sud ovest che chiudeva il ciclo perché il giro insomma perché la bassa pressione si è spostata verso est però vedete sono venti settentrionali ecco il nord est sull'adriatico di cui abbiamo parlato un attimo fa e sono mediamente venti forti non più fortissimi ma forti quindi i mari sono l'un per l'altro da molto mossi ad ancora agitati ricordiamoci che quando si solleva il moto ondoso ci vuole qualche ora perché questo avvenga quando il vento soffia però anche se il vento dovesse cessare improvvisamente ci vogliono ancora sei ore otto ore perché il moto ondoso si calmi quindi diciamo che la prima attenuazione dei venti non corrisponde immediatamente ad una attenuazione del moto ondoso ci ho detto andiamo a vedere la giornata di domani torneranno ma soprattutto dal pomeriggio in poi delle piogge al sud qualche debole pioggia può interessare il medio versante tirrenico della penisola ma è appena qualche incertezza in realtà oltre questo non si dovrebbe andare ancora queste nuvole queste piogge queste nevicate sulle zone alpine ma sui versanti settentrionali quindi non c'è un reale peggioramento ma c'è un po di strascico di quella di quel maltempo che ancora c'è oggi nella giornata di dopodomani invece ripeggiora nuovamente tutto l'arco alpino sicuramente e poi le zone del centro guardate sia sul versante tirrenico che su quello adriatico nel corso della giornata prima saranno corsica e sardegna ad avere nuvole piogge e poi invece tutte le zone del centro e parte di quelle del sud martedì probabilmente sarà una giornata di tempo ancora un po peggiore quindi tempo che migliora ma ri peggiora subito essendo inverno è anche abbastanza normale vorrei farvi vedere molto velocemente soltanto una carta che riguarda le minime della prossima nottata in colore verde abbiamo ancora temperature positive sopra lo zero il giallo sono temperature più alte addirittura quindi per avere delle nevicate dovremmo trovare a quest'ora della notte delle zone eccole qua vedete in bianco o addirittura in azzurro come troviamo sulle zone sulle zone alpine quindi ancora minime positive al centro e al sud il che scongiura il fatto che appunto come abbiamo detto per tutta tutta la trasmissione scongiura il l'ipotesi che arrivino nevicate al suolo l'inverno è ancora lungo se qualcuno le aspetta insomma qualche speranza sarà sicuramente ancora noi se volete ci vediamo più tardi alla fine di coffee break adesso il dibattito di omnibus